I numeri sacri dell'universo nella loro combinazione esoterica risolvono il grande problema e spiegano la teoria della radiazione e il ciclo delle emanazioni. Gli ordini più bassi, prima di svilupparsi nei più alti, devono emanare dagli ordini spirituali più alti e, arrivati al punto di svolta, essere nuovamente assorbiti nell'infinito. La fisiologia, come ogni altra cosa in questo mondo in costante evoluzione, è soggetta alla rivoluzione ciclica. Poiché sembra oggi emergere appena dalle ombre dell'arco inferiore, si potrà dimostrare un giorno che essa si è trovata nel punto più alto della circonferenza del cerchio, molto prima dei tempi di Pitagora. Moco di Sidone, fisiologo e maestro di anatomia, fiorì molto prima del saggio di Samo e quest'ultimo ricevette le istruzioni sacre dai discepoli e dai discendenti di lui. Pitagora, puro filosofo, intimamente versato nei più profondi fenomeni della natura, nobile erede della scienza antica, la cui grande meta fu di liberare l'anima dai legami dei sensi e costringerla a rendersi conto dei suoi poteri, vivrà eternamente nella memoria umana. L'impenetrabile velo di segretezza arcana fu gettato sulle scienze insegnate nel santuario. è questa la causa dell'attuale disprezzo per le antiche filosofie. Perfino Platone e Filone ebreo sono stati accusati di assurde incoerenze da molti commentatori, mentre il piano nascosto sotto il dedalo di contraddizioni metafisiche così sconcertanti per il lettore del Timeo è fin troppo evidente. Ma Platone è stato mai letto con vera comprensione da coloro che spiegano i classici? Questa è una domanda giustificata dalle critiche che si trovano in autori quali Stalbam, Schleyer-Marker, Ficino, Heindorf, Siedham, Batman, Taylor e Burgess, per non dire nulla di autorità minori. Le velate allusioni del filosofo greco alle cose esoteriche hanno evidentemente sviato al massimo questi commentatori. Essi non solo suggeriscono con sfrontata freddezza dinanzi a certi passi difficili che si voleva evidentemente impiegare un'altra fraseologia, ma fanno mutamenti audaci. Il verso orfico, il suo canto chiude l'ordine della sesta razza, che può essere interpretato solo in riferimento alla sesta razza evoluta nelle consecutive evoluzioni delle sfere, secondo Burgess era evidentemente preso da una cosmogonia in cui l'uomo era considerato essere stato creato per ultimo. Chi si accinge a pubblicare le opere di un altro non dovrebbe almeno capire quello che intende il suo autore. In realtà gli antichi filosofi sembrano essere generalmente considerati dai nostri critici moderni, compresi i più liberi da pregiudizi, come privi di quella profondità e di quella piena conoscenza delle scienze esatte di cui il nostro secolo va così orgoglioso. Si mette perfino in dubbio che essi abbiano inteso il principio fondamentale ex nihilo nihil fit, locuzione latina che letteralmente significa dal nulla viene nulla. Se anche sospettarono l'indistruttibilità della materia, dicono questi commentatori, non fu in conseguenza di una formula fermamente stabilita, ma solo per un ragionamento intuitivo e per analogia. Noi siamo di parere contrario. Le speculazioni di questi filosofi sulla materia erano aperte alla critica pubblica, ma i loro insegnamenti sulle cose spirituali erano profondamente esoterici. Legati per giuramento al segreto e al silenzio religioso sui soggetti astratti che riguardavano le relazioni fra lo spirito e la materia, essi gareggiavano fra di loro nei metodi ingegnosi per celare le loro vere opinioni. La dottrina della metempsicosi è stata abbondantemente messa in ridicolo dagli uomini di scienza e respinta dai teologi. Tuttavia, se fosse stata propriamente intesa nelle sue applicazioni all'indistruttibilità della materia e all'immortalità dello spirito, si sarebbe capito che è una concezione sublime. Non dovremmo forse considerare la questione mettendoci dal punto di vista degli antichi prima di osar screditare coloro che la insegnano. La soluzione del grande problema dell'eternità non spetta né alla superstizione religiosa e né al materialismo grossolano. L'armonia e l'equiformità matematica della doppia evoluzione, spirituale e fisica, sono chiarite solo dai numeri universali di Pitagora che costruì interamente il suo sistema sul cosiddetto linguaggio metrico dei Veda Hindu. Solo recentemente uno dei più zelanti studiosi di sascrito, Martin Haug, intraprese la traduzione dell'aitareya brahamana del Rigveda. Fino a quel tempo esso era totalmente sconosciuto. Le sue spiegazioni stabiliscono in modo indiscutibile l'identità dei sistemi pitagorico e brahamanico. In entrambi il significato esoterico è derivato dal numero. Nel primo dalla relazione mistica di ogni numero con tutto ciò che è intelligibile per la mente umana. Nel secondo dal numero di sillabe di cui ogni verso dei mantra è composto. Platone, ardente discepolo di Pitagora, lo comprese così pienamente da sostenere che il dodecaedro era la figura geometrica usata dal demiurgo per costruire l'universo. Alcune di queste cifre avevano un significato particolarmente solenne. Ad esempio il 4, di cui il dodecaedro è il triplo, fu considerato sacro dai pitagorici. E il quadrato perfetto, e nessuna delle linee che lo limitano sorpassa di un solo punto la lunghezza delle altre, è l'emblema della giustizia morale e dell'equità divina geometricamente espresse. Tutti i poteri e le grandi sinfonie della natura fisica e spirituale sono iscritti nel quadrato perfetto e il nome ineffabile di colui che, altrimenti non avrebbe nome pronunciabile, era sostituito da questo sacro numero 4 che è il più imperioso e solenne giuramento per gli antichi mistici, la tetraactis. Se la meta in psicosi pitagorica dovesse essere completamente spiegata e confrontata con la moderna teoria dell'evoluzione, ci accorgeremmo che verrebbe a supplire ogni anello mancante della catena di quest'ultima. Ma chi dei nostri scienziati consentirebbe a perdere il suo prezioso tempo sulle fantasie degli antichi? Nonostante prove in contrario, essi negano che non solo le popolazioni dei periodici arcaici, ma anche gli antichi filosofi avessero un'effettiva conoscenza del sistema eliocentrico. I venerabili Veda, gli Agostini e i Lattanzi sembrano avere soffocato con la loro dogmatica ignoranza ogni fede nei più antichi filosofi dei secoli pre-cristiani. Ma adesso la filologia e una più profonda conoscenza della letteratura sascrita ci hanno parzialmente permesso di riabilitare quei filosofi da tali immeritate accuse. Nei Veda, per esempio, troviamo una prova positiva che già nel 2000 a.C. i saggi e gli studiosi Hindu dovevano conoscere la sfericità del nostro globo e anche il sistema eliocentrico. Quindi Pitagora e Platone conoscevano bene questa verità astronomica, perché Pitagora acquistò la sua scienza in India o da uomini che erano stati là e Platone riprese fedelmente i suoi insegnamenti. Citeremo due passi dell'Aitareia Brahmana. Nel mantra del serpente il Brahmana afferma che tale mantra è quello che fu visto dalla regina dei serpenti, in quanto essa è la madre e la regina di tutto ciò che si muove, o anche detto Sarpath. Nel principio essa, ovvero la terra, era solo una testa rotonda senza capelli, ossia senza vegetazione. Poi essa scorse questo mantra che conferisce a chi lo conosce il potere di assumere ogni forma che desidera. Essa pronunciò il mantra, ossia sacrificò agli dèi e in conseguenza ottenne immediatamente un'apparenza screziata. Dunque divenne variegata e capace di produrre ogni forma che voleva, cambiando una forma in un'altra. La descrizione della terra in forma di una testa rotonda e calva, che in principio era morbida e poi divenne dura solo perché vi soffiò sopra il dio Vayu, il signore dell'aria, suggerisce necessariamente l'idea che gli autori dei sacri libri vedici sapevano che la terra è rotonda, ossia sferica. Inoltre che era stata agli inizi una massa gelatinosa, la quale lentamente si raffreddò sotto l'influenza dell'aria e del tempo. Questo per quel che riguarda la loro conoscenza della sfericità del nostro globo. E adesso presenteremo la testimonianza su cui fondiamo la nostra asserzione che gli hindù erano perfettamente al corrente del sistema eliocentrico almeno duemila anni avanti Cristo. Nello stesso trattato Lothar, cioè il sacerdote, è istruito sul come gli shastra devono essere ripetuti e come si debbano spiegare i fenomeni dell'alba e del tramonto. Esso dice così. L'agnishtoma è colui, ossia il dio, che brucia. Il sole non tramonta né sorge. Quando il popolo crede che il sole tramonti non è così, si inganna. Perché arrivato alla fine del giorno esso produce due effetti opposti, facendo giorno per ciò che è sotto e notte per ciò che è sull'altro lato. In realtà il sole non tramonta mai né tramonta per colui che ha questa conoscenza. Questa frase è così conclusiva che anche il traduttore del Rigveda, il dottor Haug, fu costretto a notarlo. Egli dice che questo passo contiene la negazione del sorgere del calare del sole e che l'autore suppone che il sole rimanga sempre nella sua alta posizione. In uno dei più antichi Nivid, Rishikutsa, un indussaggio della più remota antichità, spiega dall'allegoria delle prime leggi date ai corpi celesti. Per aver fatto ciò che non doveva fare, Hanait, o Nana, o Analtis, o la Venere persiana, che nella leggenda rappresenta la terra, è condannata girare attorno al sole. I satra, ossessioni sacrificali, provano indubbiamente che già nel diciottesimo o ventesimo secolo avanti Cristo, gli Hindu avevano fatto notevoli progressi nella scienza astronomica. I satra duravano un anno e non erano altro che una imitazione, del corso annuale del sole. Secondo Haug, erano divisi in due parti distinte, ognuna consistente di sei mesi di trenta giorni. Nel mezzo di entrambe vi era il Dishuvan, cioè l'equatore o giorno centrale, che tagliava il complesso dei satra in due metà, eccetera eccetera. Questo studioso, sebbene faccia risalire la composizione del complesso dei Brahmana al periodo 1400-1200 avanti Cristo, è dell'opinione che gli inni più antichi possano essere posti all'inizio della letteratura vedica, ovvero fra gli anni 2400-2000 avanti Cristo. Egli non trova ragione per considerare i Veda meno antichi dei libri sacri cinesi, poiché il Shuking, o libro della storia, e i canti sacrificari del Shiking, o libro delle Odi, sono stati provati a risalire al 2200 avanti Cristo, e i nostri filologi potranno essere costretti, fra non molto, a riconoscere che, in fatto di conoscenza astronomica, gli Hindu antidiluviani furono i maestri dei cinesi. In ogni caso vi sono fatti che provano come certi calcoli astronomici presso i caldei del tempo di Giulio Cesare erano esatti come quelli nostri attuali. Quando il calendario fu riformato dal conquistatore si trovò che l'anno civile corrispondeva così poco alle stagioni che l'estate si confondeva con i mesi d'autunno e questi con il pieno inverno. Fu Sosigene, astronomo caldeo, colui che riportò l'ordine nella confusione, facendo retrocedere il 25 marzo di 90 giorni, così che corrispondesse all'equinozio d'inverno. E ancora, sempre lui, Sosigene, fissò la lunghezza dei mesi quale è attualmente. In America l'esercito di Montezuma trovò che il calendario degli azzechi dava un numero uguale di giorni e di settimane ad ogni mese. L'esattezza dei loro calcoli astronomici era tale che nessun errore fu scoperto in essi dalle verifiche successive, mentre gli europei che sbarcarono nel Messico nel 1519 erano, seguendo il calendario giuliano, in anticipo di circa 11 giorni sul tempo esatto.